Che c***o ti fai? Che c***o ti tocchi? Che c***o ti fai? Che c***o fai? Che c***o ti tocchi? Ma è finta c***o, pensi che sia stupido È finta, perché fai allora? Per mangiare lui Che c***o fai? Se tu non hai soldi, che c***o fai bambino? Ora già toccare Che c***o hai visto, che ho visto Chiamo la polizia Ehi, dove c***o vai? Chiamo la polizia Chiamo la polizia Queste immagini sono state girate con il cellulare Giovedì pomeriggio in Calle della Mandola a Venezia Poco distante da Campo Sant'Angelo La stessa zona dove il mese scorso Sono già state fermate tre baby borseggiatrici Si vede una ragazza, tra l'altro già nota le forze dell'ordine Con il pancione Che tenta di infilare la mano dentro la borsetta di una passante Con tutta probabilità una turista Questa volta però non riesce nell'intento Perché il ragazzo che la sta riprendendo la blocca Iniziando anche ad insultarla Tanta è la rabbia State attenti, state attenti Ladri, ladri, ladri Ladri di m***a Ladri, ladri Sono loro le ladri Poi la ragazza fa perdere le sue tracce Ma l'attenzione dei membri del comitato CND Il gruppo cittadini non distratti Nato proprio per segnalare e denunciare Il fenomeno dei borseggi Resta alta Grazie a tutti Grazie a tutti